salve e benvenuti ad una nuova pillola del prof oggi vedremo insieme come realizzare un'uscita didattica grazie alla realtà virtuale detto così sembra una cosa fantascientifica in realtà si tratta di un'operazione che qualsiasi insegnante può realizzare all'interno della sua classe e oggi vi dimostrerò come il tutto è fattibile grazie a questo ovvero un visore per la realtà virtuale denominato cardboard ovvero cartoncino si tratta infatti di un visore in cartone realizzato in questo caso da google all'interno del quale posso mettere un uno smartphone per realizzare un vero e proprio visore per la realtà virtuale che si usa in questa maniera vediamo un po cosa serve per realizzare la nostra esperienza in realtà virtuale abbiamo bisogno ovviamente di dei dispositivi mobili vogliamo realizzare un'uscita didattica nel quale noi insegnanti saremo una guida per i piccoli esploratori ovvero i nostri studenti quindi come guida abbiamo bisogno di un tablet va bene un tablet android va bene anche un ipad quindi noi come guida avremo bisogno di un tablet ogni partecipante ovvero ogni esploratore per così dire avrà bisogno di un telefono cellulare di uno smartphone che come avete visto verrà inserito all'interno del visore cardboard abbiamo bisogno di un visore cardboard per ogni partecipante volendo si può anche optare per dei dei visori condivisi tra più tra più partecipanti e abbiamo bisogno di un router wifi che permetta al nostro tablet guida di comunicare con gli smartphone contenuti all'interno dei visori cardboard l'altoparlante per la riproduzione dei suoi ambientali è una cosa facoltativa il progetto google cardboard come vedete qui è appunto un modo semplice economico per entrare nella realtà virtuale dove posso trovare il visore vedete ce ne sono di più tipologie si va da quello in cartone come ho io fino a quelli in plastica o questi un pochino più moderni avveneristici che sembrano dei veri e propri occhiali per smartphone il costo si aggira intorno ai 3 4 euro per quelli di cartone a salire fino a una ventina di euro per quelli in plastica si trovano nei negozi della grande distribuzione tiger non so se conoscete il marco ad esempio ha implementato il proprio visore molto simile a quello a quello che ho io in mano ma in realtà si possono trovare anche online su amazon su ebay i prezzi sono quelli che vi ho descritto quindi una volta acquistato il il visore per la realtà devo scaricare sia sul tablet sia sullo smartphone un'applicazione che si chiama google esplorazioni grazie a queste grazie a questa applicazione che esiste come vedete sia per android sia per ios grazie a questa applicazione riuscirò a mettere in comunicazione il mio dispositivo tablet guida con i dispositivi smartphone esploratori che sono all'interno dei cardboard che sono in mano ai nostri studenti vediamo nello specifico come realizzare la nostra prima esperienza bene dopo aver installato l'applicazione esplorazioni sia sul mio tablet sia sul mio smartphone o sullo smartphone degli alunni posso lanciare sul tablet l'applicazione che farà da guida posso scaricare vi faccio vedere una delle tantissime esperienze che vengono già proposte da google esperienze che variano per tipologia ci sono esperienze di tipo scientifico quindi viaggi nello spazio oppure una giornata di un lavoro particolare oppure esperienze a livello storico viaggia all'interno di musei anatomia quindi viaggia all'interno del corpo umano eccetera eccetera quindi si varia veramente tantissimo e si possono fare esperienze collegate a tantissime materie che possono essere non solo la geografia ma anche la storia le lingue straniere e quant'altro le scienze e così via quindi dopo aver scaricato la guida l'esperienza che volete fare la potete lanciare io lancio questa dell'aurora boreale e poi faccio la stessa cosa apro l'applicazione esplorazioni all'interno del mio smartphone clicco su accetta e vedrò che qui visto che siamo collegati alla stessa rete wifi appare il mio nome cliccando l'esploratore quindi il nostro aluno su partecipa verrà invitato a mettere il visore all'interno del cardboard in questa maniera quindi io metto il visore all'interno del cardboard e potrò vedere quello che c'è al suo interno ma in questo caso giusto per farvi vedere effettivamente cosa si vede anche senza cardboard basta premere questa icona e vedete appare in attesa dell'insegnante non appena l'insegnante preme il tasto riproduci qui in basso a destra l'immagine viene inviata immediatamente al allo smartphone che si dovrebbe trovare all'interno del cardboard come vedete muovendo la testa che ovviamente sarà attaccata allo smartphone lo smartphone visualizza l'immagine a 360 gradi nella sezione guida io ho la possibilità di leggere delle indicazioni al momento sono solamente in inglese ma sono facilmente traducibili e nelle indicazioni c'è anche proprio come portare avanti una lezione un'esperienza di questo tipo in classe quindi fare delle domande più facili poi sempre più difficili eccetera eccetera i simboli che vedete qui in fondo servono per attirare l'attenzione su dei punti specifici dell'immagine quindi se io premo in questo questo visible in the night sky vedete che apparirà un cerchio in un punto specifico dell'immagine sul mio smartphone vedete apparsa una freccia che mi guida nel punto ecco qua dove l'insegnante vuole che io guardi per passare ad un'altra immagine si scorre sul tablet e si clicca come sempre su riproduci vedete cambia l'immagine sul sul tablet ma anche sul mio sul mio smartphone sul tablet si può navigare con le dita vedete che in basso qui è apparso ecco qua è apparso una faccina che ride la faccina che ride corrisponde al punto di osservazione del mio studente quindi se vedete se io mi sposto in questo caso ci sono solo io collegato se mi sposto la faccina si sposta quindi non solo voi potete attirare l'attenzione dei vostri studenti su un punto specifico dell'immagine a 360 gradi ma avrete comunque più o meno l'idea di dove i vostri studenti stanno guardando faccio vedere un'ultima immagine ecco qua vedete la qualità delle esperienze proposte è veramente molto alta e i contenuti come vi dicevo prima sono veramente variegati quindi potete sicuramente trovare quello che fa per voi per guidare la vostra prima uscita didattica grazie alla realtà virtuale bene spero che vi sia piaciuto questo viaggio molto veloce all'interno della realtà virtuale spero anche che vorrete provarlo in classe perché sono sicuro che i vostri studenti lo adoreranno adoreranno questo tipo di esperienza se questa pillola vi è piaciuta fate girare il video fate girare la conoscenza condividetelo sui vostri social se volete ritrovare le pillole precedenti basta andare sul canale youtube di prof digitale oppure su prof digitale puntocom per questa pillola del prof è tutto vi aspetto la prossima settimana come sempre di mercoledì a presto